Ciao miei tartarughini e bentornati in questo nuovo video Allora, scusatemi per la lunga assenza Però comunque stavo, non avevo idea in mente Quindi ho detto no basta Con questi saldi ho preso tante cose Ma tante per dire tante E voglio farvi un video haul Quindi Allora, per prima cosa Perché altrimenti mi dimentico Ho preso le wands Le wands Sono così Sì le ho usate Non sono riuscita ad aspettare Per fare il video Le ho usate Infatti si vede E le ho pagate 40 euro Poi ho preso Questa maglia qui E l'ho pagata 13 euro Mi sembra Credo Non mi ricordo Poi ho preso Sì sono più mai E vabbè diciamo Questa E non ricordo Cioè comunque Sui 5 euro Poi Ho preso Questa maglia Questa qui Cioè vi devo dire Che è super mega comoda E è larga Come facciamo Poi per entrare nel Più femminile Diciamo Più femminile Sì Come piace a me Infatti Perché con le gonne Io non Non amo molto Le gonne Poi Ho preso Inviate Questa giacca Militare Questa qui E io non ricordo Quanto l'abbia pagata Fantastico Cioè divertente Non ricordassi Quanto costava Poi Non meno che è più importante Perché questa è la cosa più fondamentale Del mio shopping È Questo giacchetto Di jeans Questo qui Infatti è Così Cioè Ha degli strappi Qui E io Cioè Adoro E l'ho pagato 23 Se non sbaglio Poi Qualcosa di trucco Ci stava Per forza Perché comunque Il mio Canale È proprio Nei random makeup E ho preso Questo mascara Qui Della Rimlandon Lo scandalize E ha lo scopolino Così Questo qui Proprio Come piace a me Infatti Devo dire Che il mio shopping Dei saldi È stato Perché alla fine Ho preso Cose che I neri I neri Vabbè Cose che mi servivano E anche a poco prezzo Cioè Soprattutto Loro Le ho desiderate Così tanto Anche perché Le altre scarpe Che avevo Erano sfonnate Cioè Proprio parlando Così Erano sfonnate Proprio Tecnicamente Detto Lasciate un bel pollicenzo Noi ci vediamo Il prossimo video Vi giuro Che tornerò Ad essere più attiva Ve lo giuro Tornerò Ad essere più attiva Più che mai E a repubblicare Il video Ogni settimana E noi ci vediamo Al prossimo Al prossimo video